Il Covid, un virus congegnato in modo da poter essere scambiato per un patogeno naturale, una base di partenza per scatenare una terza guerra mondiale, non fondata su conflitti o bombardamenti, ma basata sulla diffusione non bellica del coronavirus, cioè fra la gente comune, dove avrebbe causato diffuso terrore e avrebbe consentito alla Cina e al regime di Xi Jinping di ottenere vantaggi politici e strategici in aree regionali, se non a livello globale. Questi sono solo alcuni tra i contenuti shock messi in nero su bianco nel documento di 263 pagine redatto da un pool di scienziati militari cinesi datato 2015. Il titolo, tradotto in italiano, recita le origini artificiali della SARS e nuove specie di virus prodotti dall'uomo come armi biogenetiche. Lo studio è stato reso noto da The Australian, il quotidiano di Sydney e il più diffuso dell'oceania. Il testo condense il lavoro di un gruppo di 18 scienziati dell'esercito cinese guidati dal generale De Zong Su e ipotizza, ben sei anni fa, di trasformare in arma un virus del ceppo SARS allo scopo di generare una pandemia che faccia letteralmente collassare i sistemi sanitari nemici, un'arma biologica illimitata della quale non poter risalire all'origine. Global Times, il quotidiano in lingua inglese del partito comunista cinese, attaccato duramente di Australian e gli altri mezzi di comunicazione che hanno pubblicato la notizia parlando di propaganda. Intanto però il dossier è nelle mani dei servizi segreti americani e si attende di capire quale potrà essere la prossima mossa della diplomazia mondiale per chiarire, una volta per tutte, se un'inchiesta indipendente in materia sarà mai resa possibile.